Amato Ciciretti resta un sogno per l'Avellino, l'ex Parma Empoli è destinato al Como, società di Serie B, si trasferirà tra le fila dei lariani in prestito fino alla fine della stagione, con opzione per i prossimi due anni. Al baglio del DS di Somma, oltre che la difficile pista che porta Leonardo Molosini del Lentella, altri profili. A quanto pare il piano B della dirigenza erpina prevede l'arrivo di un calciatore che possa alternarsi senza particolari problemi. Con i tre titolari di Gaudio, Canute e Micoschi ci sarebbe stata una chiacchierata con l'entourage di Davide Bariti, vecchia conoscenza di lui. Il classe 1991 sta giocando tra le fila della Pergolettese, rimina ancora Triestina e Sicula, Leonzi e le altre squadre in cui ha giocato. 338 presenze, 10 gol e 22 assist in carriera. Siccome resta caldo il nome di Simone Russini del Catania, è chiaro che l'ultima settimana di mercato potrebbe anche offrire nuove occasioni, con il solito effetto domino che coinvolge le società di B e C. Da risolvere anche le spinose questioni legate a Sonny D'Angelo e Salvatore Aloy, entrambi in scadenza. Per quanto riguarda il siciliano, la permanenza all'ombra del Partenio sembra essere difficile. In settimana dovrebbe esserci il faccia a faccia per lui e per Agostino Rizzo, altro calciatore assistito da Lara Palmeggiani e per cui il padron D'Agostino è pronto ad intervenire in prima persona, rinnovando l'intesa a centrocampo. È sempre vivo l'interesse per Giuseppe Rizzo del Pescara, ex Vicenza e Catania. Il Potenza ha fatto un nuovo tentativo per Andrea Sbraga e Vincenzo Plescia. Il difensore quasi sicuramente lascerà l'Irpinia, mentre persistono ancora dubbi sul futuro dell'attaccante che ha diversi estimatori.